Ragazzi, bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Alpeca e oggi siamo con il continuo della serie con Gelsi No, niente, con il continuo della serie Perché non è con Gelsi, però era con l'Atalanta Ragazzi, eravamo arrivati Scorsi episodi del semifinale Di Coppa Quindi ho detto ragazzi, questo sarà Il finale di questo video Ovviamente ragazzi, dopo questo video Non farò Cioè, continuerò Con la prossima stagione Ovviamente a questa stagione puntiamo Ad andare in Champions Quindi dobbiamo vincere tutte queste Tre Per arrivare a quattro Quindi il nostro obiettivo è vincere Tutte le partite per arrivare Cioè, aspettate Come vedete, dalla classifica qua Siamo quinti A un punto da Manchester United Lo United Lo United se perde Abbiamo una possibilità Di raggiungere il quarto posto Ragazzi Quindi, ragazzi Il nostro compito è arrivare Il quarto posto Dobbiamo vincere Ogni partita Quindi, ragazzi, da ora partirà Vado, ragazzi Partirà il tryhard Nel sangue Che Per noi Arrivare già in Premier League E far vincere la Coppa Alla Al Chelsea È già un grande colpo Perché almeno Possiamo già puntare Anche a migliori squadre E poi Capito? Quindi il nostro obiettivo È anche migliorare Vite Più famosi Cambiare squadre Perché i ragazzi Potremmo raggiungere I livelli Tipo Dacci Poi iniziamo la partita Ragazzi Dalla Anfield Di Liverpool Chelsea Tantè L'oggino di Rappeneres Si gira Per esempio Cerca il passaggio Per Canter Ma sbaglia tutto Andai Parello Roberto Filmino Pabinio Però recupera Giorginio E ritorna dietro Per Upa Meccano Kovacic No dai Non puoi sbagliarmi un po' Sì Gioca il genere Allora vai Guarda su L'angolo La mette in mezzo Per Bobby Filmino Tantè recupera Che la passa Per Kovacic Può partire Contro piede Vai lunga Rodrigo Lada Per Kovacic 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 Nooo Sì 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 Ragazzi Ora è un po' Mi toccherà parlare A bassa voce C'è un po' Quasi Sì 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 Federico Passa dietro Allungano il polsino Ragazzi A basso il livello del gioco Almeno potete sentirmi meglio Però mi sentiate meglio ragazzi Non posso parlare perché la mia sorella Poi te li hanno messo molto Ma dovreste sentire meglio Ma dovreste sentire meglio Buone seggio Ma sono fascia ragazzi signori Buone seggio Buone seggio Buone seggio Che spingiagli sono Ragazzi Ragazzi Non posso parlare perché la mia sorella Deva fare video lezioni per sto coronavirus Quindi ragazzi Io voglio registrare sto via Tutti come semmeno che esca più velocemente possibile Che è il friggio finale Dunca Non ti coprono No Non ti coprono Ma semmi No Per come Non ti coprono Non vietici Non cammin girls No Oh No 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 Dai, dai capito, va bene Aspetta che non l'ho messa in mezzo recentemente Dai, ma che passaggi sono? 2 minuti e 18 minuti Ma fa il nuovo sto mondo Che dura ragazzi, sta partita è parecchio dura Un'altra cosa, un'altra cosa Torni Non c'è Ah, c'è un paolo C'è un paolo, dai 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 Biesto. Basta. Piastica sui giudicchi. solo io, solo io, solo io vai, go, no, dai, ragazzi, difesa, difesa, difesa no, difende dai, più salti vai, sali i burti dai, come cazzo fa, mate, ma che cazzo è? me ne ha presa per il culo, dai come facevano, come fa domani, quanto male fa quelle cose ancora, ma la dippoli se c'è dai no, no no, no, levala levala ma come non a lui? dai, scemo, devi dare un culo più lontano non capisci che è una partita importante questa bravo fai fuori se c'è dai, dai, cosa ha parato cosa ha parato cosa ha parato, piccola cosa ha parato cosa aveva parato quel cortesano dai ancora non ci possiamo permettere un pareggio non ci lo possiamo permettere non ci lo possiamo permettere non ci credo tesco dai, rigami non ci credo non ci credo non ci credo no aracai non ci vediamo va ragazzi ultimo contro pieter il gol all'ultimo minuto il recupero che ci porta in vantaggio non alzano tuoi raga abbiamo vinto contro il liverpool ci portiamo a tre punti ora dobbiamo solamente sperare che il manchester united non abbia vinto o pareggiato no che abbia pareggiato ho perso terzo ragazzi siamo in champions league il prossimo sempre sia stagione si evidentemente ragazzi vediamo la partita del wolverettor lo scelta del wolverettor per andare a giocare la partita contro sono tutti da la squadra c'è sta battuta è vero bravo 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 dai la squadra ai per cammino questa mattina lo faccio giocare dai io posso notare i tifosi ma Addio capallero. Addio capallero. Cosa? Cosa? Lo speriamo solamente che non lo abbiamo. Addio capallero. Addio capallero. Ragazzi, qui si deciderà la partita. Ragazzi, qui si deciderà la partita finale contro la grande Arsenal. Si, andiamo a vedere la finale con la musica che è stata brava. Dobbiamo solamente impegnarci, ragazzi, perché questo è lo storico. È la finale. È il momento, ragazzi, perché questo è la fine. Questa è la finale di Coppa. Il Chelsea batterà l'Arsenal. Punti interrogativi. Questa è la fine. Questa fa tutta la casa. Questa corretta. Questa è la fine. Questa è la fine. Questa è la fine. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. posto per pulirsi raga ci riepoveravano quindi aspettavente è arrivata l'ex alzardo per rispondere sono così pochi vabbè raga mi devi mi schifare di andare subito alla prossima stagione anzi no io ce ne fa perché farò vedere tutto il prossimo episodio ovviamente nel prossimo episodio e rincominceremo una nuova stagione celsi però ragazzi voglio 10 like all'intero vinto l'europa di per avere per fare la prossima partita in leggenda prossima stereo tutta leggenda vi lo prometto che lo farò solamente che lasciate like 10 like mi raccomando ciao brothers